Mercoledì di Sottogessima, la condanna. I colpevoli compaiono dinanzi al Sovrano Signore, che hanno addragliato, ma lungi dal dichiarare il proprio errore, si incolpano vicenda. Ciò, nonostante, la giustizia divina farà il suo corso, la sua sentenza si farà sentire fino alla più lontana posterità. Il delito era stato commesso da due esseri arricchiti di ogni dono di natura e di grazia. Il loro inclinazione verso il male, l'indoranza e la dissipazione che otteneranno l'intelligenza dell'uomo decaduto, prima non esisteva. Un eccesso di ingratitudine li aveva dunque inavisati nel male, e si avrebbero potuto salvarsi subito con la fuga. Invece, esitarono. Poi, a poco a poco, ciamò nella loro conscienza l'atrocità della colpa. Cominciarono a presumere di sé il loro interesse, finalmente, sostituendo l'amor proprio a quello dovuto a Dio, dichiararono la propria indipendenza. Ma il Signore aveva compassione, a causa della loro discendenza. Nello stesso istante che gli angeli furono creati, furono soggetti alla prova che sarebbe stata la condizione della loro eterna felicità, ciascuno di loro aveva modo di scegliere o la fedeltà o la ribellione. Una fatale maledizione peserà eternamente su quelli che si schiererano contro Dio, mentre la Divina Misericordia è stata prodiga nel risplendere sull'intera umanità, rappresentata nei due progenitori e da loro traccinata nell'avviso della riprovazione. Una triplice sentenza ecce dalla bocca di Dio, ma la più terribile è rivolta al serpente, già da Lui maledetto. Difatti, lo stesso perdono che promette all'umanità quel giorno sarà lanciato in forma di anatema contro lo spirito perverso che osò mettersi contro lo stesso Dio nella opera sua. La promessa Porrò in amicizia fra te e la donna, e lei ti schiaccerà la testa. Questa è la vendetta di Dio sul suo nemico. Il trofeo di cui questi era sì, fiero, torna sull'infamia e ne proclama la disfata. Nella sua astuzia, non aveva preso di mira il uomo, aveva preferito misurarsi con un essere credulo e debole come è la donna, riprometendosi, ahimè, a ragione che una compiacenza troppo tenera avrebbe poi indotto anche l'uomo a tradire Dio. Ma ecco che proprio nel cuore della donna, il Signore suscita un odio implacabile contro l'universale nemico. In vano il serpente alzerà la sua superba testa per ottenere l'adorazione degli uomini. Verrà il giorno che il calcagno di una donna gli schiaccerà la testa che non vuole inchinarsi davanti a Dio. Questa figlia di Eva, che tutti i popoli chiameranno veata, sarà raffigurata a lungo i secoli da altre donne, tutte famose per la vittoria sul serpente. Deborah, Giudita, Esther Asseguiranno fino alla fine dei tempi una teoria dei vergine e di spose cristiane che, proprio nella loro debolezza, si mostreranno le più ammilevoli ausiliatrici di Dio. Il marito non credente sarà santificato permesso della donna credente. Così Dio annienterà la superbia del serpente. Quanto ad Adamo ed Eva, prima di condannarli alla sentenza meritata, vuole far risplendere la sua clemenza verso la posterità e far rifulgere nei loro cuori un raglio di speranza.